Nelle puntate precedenti Benvenuti ragazzi su random gameplay Ciao fobzi Siamo qui io e Cricio e Riccardo Vaffaculo Vogliamo chiamarli commentati Nooo Fai buono What would we do with the drunken sailor What would we do with the drunken sailor What would we do with the drunken sailor Are lying in the morning That's 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 Facciamo il video va bene Il video è starter Andiamo Cricio Devo dire che non ce ne frega un cazzo Wait hey Wait hey Wait hey Ma No Nicaragliamento e materiali Ora voi ditemi ordinatamente Le vostre le vostre le vostre Merda proprio Manto so simpatico Una nostra fan ha richiesto che... poteva essere più o meno interessante come come non lo sai che ma devo non far rumore no che cosa ma no che cazzo si dice non lo so ben tre mesi per finirlo è stato Left 4 Dead la scena in cui uno prende una mano e gli infila un chiodo esattamente a mo' di stimare un altro passo e sarà l'ultimo invece io vedo una logica chiarissima in tutto ciò allora il mio amore il mio amore il mio amore non si può non si può non si può e frappoglio più per 9 quindi posso registrare potete grigio però c'è tutto lo scherzi ora voglio vedere che cazzo è rompicoglioni quanto ho detto mutile patenine devo facendo moligione non so non so non so praticamente vai là non c'è un cazzo e niente devo andare indietro e torna e andavanti e torna indietro no? quando sono bloccato la missione stupid dovevi abbattere tipo tre elicotteri c'è un tempo una cosa del genere non sono un amante degli hack and slash per dire quindi giochi in cui si mena e basta non riesco a farmi piacere no 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 che cazzo fai che cazzo dici che cazzo vuoi no ora avevo un bel fusile a tezza come inizia poi si qualcuno cercano così una merda alta quando un grattagelo è un po' come gli entai con i tentacoli la stessa cosa la stessa cosa la stessa cosa caccia ai tentacoli sarebbe sarebbe ciò che piacevo se eravamo tutti uniti si è una merda è una merda è una merda è una merda BPA VERA è una maleducazione no BPA ora state vedendo che delle macchine delle automobili della polizia mi stanno inseguendo e io te la miño Grazie per la visione